Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A risolto giallo! Bentornati a risolto giallo dalla vostra Alessia Sorgato, oggi in versione piegariccia torinese, perché ieri a Torino pioveva. E io ero lì, ho detto già che ci siamo, cosa fa una quando piove va dal parrucchiere? Fa un po' sciura questa piega, voi siete abituati a vedermi col capello liscio, ma quale miglior biglietto da visita per introdurvi le autrici della Shura Marple? Eccole qua! A cominciare dalla mia destra, a vostra sinistra abbiamo... Buongiorno! Ciao, sono Anna Maria Castoldi, una delle autrici dell'ultimo libro della serie della Shura Marple. E invece alla mia sinistra... Sono Miriam Donati, vi saluto anch'io, e sono contenta finalmente di essere qui per raccontarvi qualcosa della nostra onorina. La vostra onorina. Allora, oggi le ragazze... o preferite Shure? Ma va bene, ragazze... Ragazze va bene! Le ragazze oggi mi hanno riempito la scrivania di libri, cosa che mi fa molto molto piacere, ma chiederò a loro di darmi una mano a mostrarveli, perché sono parecchi. Non so neanche in che ordine cronologico vadano messe. Vieni Miriam, tieni. Questo è così? Ecco, così è giusto. Fate conto che qui ci sia tutta la bancarella della Shura Marple. Non chiede... Ragazze, allora, facciamo così. Visto che la Shura ha già un certo background, come nasce onorina detta Nora? Come nasce il vostro sodalizio criminoso, letterario? Facciamo un po' di cronestoria. Ok, dunque, per quanto riguarda il nostro sodalizio, nasce più di dieci anni fa, casualmente, nel senso che nessuna delle due aveva mai scritto niente, però siamo sempre stati delle forti elettrici, e quindi, quando siamo andati in pensione, quindi diciamo che è una vocazione che inizia dalla pensione, quando siamo andati in pensione, adesso lo dico per me in particolare, poi magari Miriam dirà la sua parte, Allora, io, sempre da forte elettrice, ero incuriosita, sono stata incuriosita da un corso che faceva la biblioteca lì in zona da me, abito nella periferia nord di Milano, e un corso di scrittura condivisa. Scrittura condivisa, attenzione, attenzione, che cos'è? È diverso dalla scrittura creativa, era un corso che è finalizzato alla condivisione con gli altri, voleva dire che ognuno di noi sceglieva dei personaggi, iniziava a scrivere qualcosa, lo metteva in comune, e poi chi voleva poteva continuare la storia, e quindi la cosa divertente era che i personaggi che tu ti immaginavi, che potessero avere una certa vita, in realtà scoprivi che ne avevano un'altra nella fantasia di un altro autore. Mi è piaciuto tantissimo e alla fine mi sono detta, ma magari posso coltivare questa passione. Ma c'era anche Miriam nel corso? No, no, c'era nel corso successivo. Sì, infatti ci siamo trovati a un corso, questo di scrittura creativa, sempre in un'altra biblioteca, e quindi, scusate, risoltisti, occhio a cosa fanno le biblioteche, perché a quanto ci stanno dicendo le ragazze, qua le biblioteche, soprattutto forse della cintura un po' esterna della centro città, offrono questo genere di sbaglio. Perché sono uno dei due luoghi del cuore, le librerie e le biblioteche, no? Le consideriamo, lo scriviamo sempre, quando facciamo la dedica al libro che lasciamo in biblioteca, scriviamo sempre, riprendendo dalla L'Ulsenar, granai, no? Dove lì c'è il sapere, nel granaio certo c'è il grano, ma è come mettere una scorta di conoscenza, e quindi per noi le biblioteche sono state fondamentali, sia da ragazze, ovviamente, che poi nel periodo della pensione. Quindi, quando ci siamo trovate con Anna Maria a un altro corso di scrittura, i corsi di scrittura creativa permettono perlomeno di avere degli strumenti che ti aiutano a capire qual è il tuo percorso che potrai fare. E durante questi corsi condividi quello che scrivi. Quindi, Anna Maria, alla fine del corso, ha individuato me e un altro autore, dicendo, beh, ci sono delle affinità, perché non scriviamo qualcosa assieme? E lui? E questo? Eccolo lì, ho visto che c'era un intruso uomo. Esatto, e quindi abbiamo iniziato a scrivere in tre. Quindi un libro a sei mani, con la quota azzurra, perché eravamo noi due e Giuseppe. Giuro che tre mi mancavano. Ed è stata una palestra importantissima. Lo avrete distrutto, stuomo. Sì, un po' sì, un po' sì. In ogni caso abbiamo imparato tanto. Abbiamo imparato essenzialmente che quando scrivi con qualcun altro devi fare un passo indietro, il tuo ego deve essere un po' ridimensionato. Non perché diventi un compromesso quello che è il risultato scritto, ma perché si trovi una strada insieme. Ed è stato fondamentale perché appunto abbiamo capito tante cose e poi quando Giuseppe, che dei tre era l'unico che lavorava, ha cambiato lavoro, non ce l'ha più fatta a continuare a scrivere con noi, io e Miriam abbiamo deciso di continuare e ci siamo, diciamo, sfidate sul giallo. C'era già la Shura Marple con Giuseppe. No, perché questo non è un giallo. Ah, questo non è un giallo, quindi lo mettiamo via. Onorina quando nasce? Qual è la sua prima avventura di questi? Dunque, Onorina nasce perché allora la prima decisione è stata scriviamo un giallo, che è un'ulteriore sfida perché oltre a far appassionare a qualcuno la tua lettura, il giallo prevede che deve essere interessato anche al delitto e alla soluzione soprattutto del crimine e quindi dovevamo individuare quale delitto usare e l'abbiamo individuato col primo libro che è Delitti nell'orto, che è quello davanti a te, ambientando appunto il primo delitto nell'orto. Ci mancava, avevamo individuato il personaggio del poliziotto, ci mancava però il personaggio principale. in quel periodo avevo letto un libro, una biografia, ne avevo letti tante di biografie di partigiane, di Milano, mi interessava Milano soprattutto. Ho passato questa biografia ad Anna Maria perché mi aveva colpito di questa ragazza che si chiama Onorina Brambilla e la moglie poi ha sposato il comandante Pesce che era un comandante molto famoso qua a Milano. Faceva la staffetta ma ha partecipato anche a vari attentati, ha fatto parecchie cose. Mi piaceva e ho detto a Anna Maria guarda questa qua, vent'anni, in un periodo così tremendo come riesce a essere determinata e a fare delle cose che per una ventenne attuale sarebbero quasi impossibili. Certo, le condizioni erano particolari. Il nome era trovato. Ecco, infatti lei ha letto il libro e dice ma questo è il nostro personaggio, lo trasformiamo e lo portiamo ai giorni nostri ma neanche trasformiamo quanti anni avrebbe questa onorina se fosse qui e quindi è nata onorina quindi è un personaggio più vecchio di noi perché noi abbiamo iniziato a scrivere una decina di anni fa del personaggio e quindi era già più vecchio di noi e anche quella è stata una sfida. Tra l'altro il tema dell'orte e degli artisti io che ho letto La scelta del silenzio l'ho ritrovato. Certo. Forse è uno dei temi che rimangono. Il tema dell'orto della biblioteca anche ricorre semplicemente dei pezzi molto più sintetici negli altri libri. Diciamo che l'omaggio alla biblioteca l'abbiamo fatto di più nel primo e all'orto anche perché è proprio una dei personaggi un'amica di onorina è una bibliotecaria ed è molto ambientato nell'orto il primo e c'è tutto un contorno di amici che sono gli ortisti che rimangono comunque fedeli perché credo che sia capitato a tutti che quando si va in pensione e si è ancora nel contesto in cui si è nati così è facile ritrovare e in qualche modo rispolverare le amicizie dell'infanzia dell'adolescenza e quindi questi sono gli amici di onorina gli amici di sempre sì poi non solo l'orto è un microcosmo che riproduce comunque serve comunque a riprodurre la vita quindi si curano le piante come si dovrebbero curare le amicizie quindi gli ortisti sì sono amici curano le piante ma questo aiuta la relazione che è quello che ci interessa la relazione c'è sempre in tutti i nostri libri mi sostituisco al mio co-conduttore oggi assente per domandarvi se ci sia un luogo specifico in cui ambientate le storie sì il luogo è Maranese il paese che in realtà è un paese inventato è un paese che ha preso il nome come omaggio ai nostri due paesi di nascita perché io sono nata a Mariano Comense Miriam a Garbagnate milanese quindi è diventato Maranese però è reale in quanto tutti gli ambiti che raccontiamo che sia la panetteria piuttosto che lo studio del dottore eccetera sono tutti ambiti in cui facilmente chiunque in qualsiasi paese o borgo o anche quartiere di Milano si può riconoscere tra l'altro venendo qui per la prima volta perché benché sia di Milano non sono mai venuta in questa zona stavamo appunto commentando che ha proprio questo quartiere la struttura di un borgo il vecchio borgo credo di Quarto Cagnino e ti dirò di più a pochi chilometri da qui nel territorio di Settimo Milanese ci sono dei bellissimi orti uno dei quali è riuscita ad aggiudicarselo la mia amica ciao Cristina dove facciamo delle domeniche quando il tempo lo permette delle domeniche a mangiare a chiacchierare arriviamo a mezzogiorno ce ne andiamo alle 6 del pomeriggio contornati da azuche fagiolini fiori che è un qualche cosa che a un milanese giunge del tutto nuovo posso dire non tanto a una milanese come me allora ecco perché per esempio nella periferia dove abito io che è la bovisasca vicino a affori per intenderci c'è il parco dell'ex Paolo Pini dove ci sono gli orti condivisi ed è lì che è nata l'idea di ambientare il giallo nell'orto perché all'epoca io avevo un pezzo di orto condiviso e come tutti gli artisti che sono molto orgogliosi dei loro prodotti e li regalano eccetera oppure si ritrovano appunto a fare le grigliate all'orto eccetera avevo in un luglio molto assolato avevo invitato Giuseppe e anche Miriam a vedere appunto il nostro orto ed era era deserto per cui lì c'è nata l'idea del ma ambientiamolo nell'orto però insomma questa avventura iniziata così con un corso da neopensionate sta andando avanti in maniera rigogliosa come i tuoi ortaggi siamo arrivati alla quarta avventura sì quarta avventura sarebbe tanto tanto bello chiedervi come si svolge la narrazione chi scrive cosa lo abbiamo fatto spesso questo tipo di interrogativo a chi scrive in coppia ci siamo sentiti dire di ogni di tutto davvero ma è incommiabile perché per me è già difficile gestire me stessa figuriamoci condividere una una cogestione nel vostro caso c'è una regola un trucco una ricetta allora come diceva Anna prima il primo libro ci ha aiutato tantissimo ci siamo accorti appunto che dovevamo facilitare assolutamente la storia fare un passo indietro per quanto riguarda il nostro ego perché comunque tu sai tutti pensano di aver scritto un capolavoro e poi invece quando l'altro legge un pezzetto che gli hai mandato dice non si può leggere questo qua lo togliamo non c'entra niente con quello che stiamo scrivendo quindi quando siamo partite col primo libro e poi con tutti gli altri ci siamo date sì delle regole ed è molto interessante ci piace questa cosa perché è una sfida ogni volta certo stabiliamo insieme la trama ovviamente a grandi linee la scaletta perché è un giallo e quindi deve avere è circolare quindi alla fine ci deve essere un risultato però non ci diamo delle regole devo partire io o devi partire tu chi si sente parte scriviamo può essere una pagina mezza pagina un paragrafo non importa lo manda all'altra l'altra l'altra lo legge lo corregge ma anche in modo pesante lo rimanda ed è un continuo avanti e indietro è chiaro che non siamo sempre d'accordo su quello che scriviamo ma ormai col tempo ci siamo accorti che la quadra si trova sempre lasciamo magari in stand by una cosa su cui non riusciamo a metterci d'accordo e a distanza di tempo se l'altra riesce a convincere delle sue ragioni la prima bene se no cambiamo proprio ci è capitato anche di cambiare a due terzi del libro quindi voglio dire ormai è diventata quasi una coppia la nostra di penna in questo caso ed è molto interessante perché è una sfida che si svolge ad ogni pezzetto di scrittura perché quando scrivo da sola noi scriviamo anche da sole racconti per lo più e abbiamo due tipi di scritture diverse la scrittura dei libri è una terza scrittura e la sfida è proprio quella di tenere aperta questa terza scrittura che è molto diversa da quella singolare nostra alla fine con questo avanti e indietro dei testi con questo entrare perché a volte discutiamo anche per un vocabolo in cui una non è d'accordo non è il termine giusto eccetera quindi questo continuo come dire mettere inserire dei termini inserire dei pezzi eccetera alla fine non ci ricordiamo più chi cioè non possiamo dire è un pezzo che ho fatto completamente io difficile no tant'è vero che abbiamo coniato questo termine la chiamiamo una scrittura compenetrata perché c'è appunto l'apporto dell'altro all'interno appunto non possiamo dire tutto questo paragrafo l'ho fatto io cercasi biblioteca per istituire il corso di scrittura compenetrata per la quale probabilmente ci vogliono già delle personalità empatiche io già mi vedrei malissimo fare una cosa del genere e soprattutto una buona dose di modestia e di affetto e di stima nei confronti dell'altro volgiamo al termine però credo proprio che si meriti la sciura si meriti altre due parole dove sta andando questa donna aumenta la stima nei suoi confronti io che ho letto l'ultimo ho percorso a ritroso evidentemente il fatto che che lei si sia già guadagnata l'onorificenza da parte delle forze dell'ordine del paese di essere donna da ascoltare quindi una stima forse non così frequente ormai da tributare in giro a questa badante eccezionalmente simpatica lasciatemi dire che avete creato un personaggio veramente spassoso poi nel confronto fra le due conoscete questa questa Olga esiste nella vostra vita allora in realtà nel romanzo ci sono ben sono citate ben tre Olga una è la Cagnetta una è un'amica ortista che è quella che ha regalato la Cagnetta e quindi la Cagnetta si chiama come lei per quello e poi c'è la nostra badante in realtà non conosciamo la badante in sé come come persona come sempre succede nei vari personaggi ci sono degli aspetti magari di una persona che hai conosciuto che vengono comunque inseriti però se quella persona lì leggesse il personaggio di Olga non si riconoscerebbe perché non è una caratteristica viene amplificata magari una caratteristica che in nuce c'era in qualche persona che conosci a parte a volte dei come dire dei piccoli dei piccoli dei tic che ci sono oppure oppure non so mi viene in mente che nel secondo romanzo Fughe e Ritorni c'è un personaggio che si rompe il ditino del piede tre volte ecco lì per esempio era successa una mia amica e quando me l'ha detto per la terza volta le ho detto senti non è possibile questo lo metto nel libro il solito discorso che la realtà la fantasia la supera sì no è interessante perché il fatto anche di essere in due fa mischiare appunto le caratteristiche dei personaggi quindi uno mette quello che si ricorda di una certa cosa e fa diventare un personaggio diverso da come magari era partita la sua immaginazione e quindi è anche la cosa divertente perché tu ti immagini appunto un certo percorso del personaggio poi ti arriva un pezzo dall'altra dove fa un'altra cosa e ci sta e allora è divertente vedere che i personaggi possono avere una vita diversa da quella che hai immaginato tu in questo caso dove va la sciura marpole non lo sappiamo bene neanche noi perché quando abbiamo iniziato il primo libro subito abbiamo pensato una trilogia ma vedete che adesso sono quattro ma perché perché nel corso adesso fatela ringiovanire e andiamo all'indietro è successo che nella presentazione dei primi due diversi lettori ci hanno detto vabbè ma questa signora che ha una certa età ma quando è che ha iniziato ad interessarsi ai delitti eccetera e quindi anche a noi è venuto in mente di dire ma ci piacerebbe capire tornare indietro e infatti il terzo tutta la vita davanti è un prequel ambientato nel 1964 e la nostra onorina ha 20 anni e non è stato facile perché di solito tu costruisci un personaggio in questo caso avevamo già il personaggio ben definito abbiamo dovuto destrutturare il personaggio per farlo arrivare ventenne con le caratteristiche dei giovani quindi la spontaneità a volte l'ingenuità la curiosità eccetera ma mantenendo in nuce lasciando delle tracce di qualcosa che poi andrà ritrovato nel personaggio maturo e quindi è stato divertente io vi adoro la parola divertente sarà uscita almeno 5-6 volte quindi da qui si capisce che scrivere sì è faticoso ma dà un sacco di soddisfazioni e quindi lo vedremo anche con gli ascolti di questa puntata che purtroppo volge al termine ma come spesso facciamo a risolto giallo questo è un arrivederci con il prossimo libro che sia un pre quel un sequel un i quello che volete voi noi vi vi rivedremo volentieri posso lanciare un messaggio da parte della Shura Marple oddio mio certo cercasi orto la Shura Marple era stanca di noi due ha deciso che voleva dire la sua direttamente e si è aperta una pagina a facebook e quindi se volete andare a conoscerla un po' c'è la pagina facebook la Shura Marple scritto proprio Marple ragazzi andiamo andiamo perché secondo me ne vediamo delle belle allora da Alessia Sorgato Anna Maria Castoldi Miriam Donati e da tutta la redazione di Risolto Giallo buona giornata buona giornata grazie buona giornata quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a Risolto Giallo ciao 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 Grazie a tutti.